Musica Può l'intelligenza artificiale cambiare da qui a un futuro più o meno distante il modo di visitare i musei, il modo di comunicare le loro collezioni, il modo di interagire con il pubblico che non necessariamente dovrà essere sul posto ma navigare direttamente da casa, se lo ha chiesto il polo museale di Qualdotadino nel convegno Musei e territorio tra presente e futuro tenutosi alla Roccaflea giovedì 23 novembre e organizzato insieme a Ili Editore nell'ambito delle iniziative promosse da Me e Tu, la rete museale che unisce i musei dell'Umbria di Nord-Est. Nasce dalla voglia di confronto in seno a un progetto che riguarda tutto il territorio, la messa in rete dei nostri musei della fascia subappenninica e quindi riflettiamo oggi sulle nuove tecnologie, sui nuovi linguaggi, sui social media e soprattutto capiamo come possano interagire con il pubblico esterno e quali sono le funzioni positive di questi mezzi e magari perché no anche quelle negative. La finalità è quella di comprendere esattamente quanto queste, cioè esattamente per quanto riusciamo in questo momento diciamo iniziale, in questa fase iniziale, comprendere quanto le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata, ma anche le tecnologie di digitalizzazione come tutti i social e di comunicazione come i social stanno influendo sulla fruizione e sulla divulgazione del patrimonio culturale e quindi riuscire a capire come i musei si stanno adattando per poter cambiare, per poter trasformarsi con le nuove tecnologie, cioè per diventare vivi nel territorio, vivi nella comunità e trasmettitori di cultura a una fascia molto allargata di persone e a un mercato molto largo di possibili anche fruitori di cultura che magari ancora adesso non lo sono. Ai saluti iniziali delle istituzioni del direttore generale della Fondazione Perugia Fabrizio Stazzi è seguito il dibattito sul panorama museale attuale. Intelligenza artificiale, nuove tecnologie, social media sono già oggi una realtà con cui i musei hanno imparato a convivere. e di cui sfruttano le potenzialità, fermo restando che il ruolo dell'uomo che studia le collezioni, che argomenta sul singolo pezzo ricostruendo le storie caratteristiche è imprescindibile. L'intelligenza artificiale in definitiva è e sarà utilissima in fase di divulgazione della materia, ma la ricerca storica resta a pannaggio dell'intelligenza umana. Sono sempre confronti, sono momenti per crescere, momenti per condividere, momenti per prendere coscienza e consapevolezza. Al tempo stesso, a me piace parlare di tecnologia funzionale, dobbiamo capire cosa ci serve, dove vogliamo andare, obiettivi mission, vision e dobbiamo capire davvero quale strada entra a prendere. Ecco, il mondo offre tante opportunità. Guardiamo di scegliere ciò che realmente è utile per i nostri obiettivi. E che cosa è utile per l'obiettivo della divulgazione, per esempio, della cultura in campo artistico? Conoscere i meccanismi inclusivi e soprattutto essere consapevoli del concetto di sostenibilità economica, sociale, ambientale e olistica. Io devo veramente essere un punto di riferimento per la comunità. Oggi un museo è un pubblico servizio per una pubblica utilità. E devo ovviamente non solo applicare forme di engagement, di far venire persone, ma convogliere e fidelizzarle. Quindi ogni cosa che propongo deve avere un senso, deve avere una funzione, deve avere una sorta di titolo di merito. Allora a quel punto posso usare anche l'intelligenza artificiale, ma sempre leggendo prima le avvertenze. E allora le chiedo una cosa personalissima. Tra una intelligenza artificiale che le racconta un museo, una mostra, un'esperienza, e magari invece uno storico dell'arte, un uomo in carne ed ossa che gliela racconta, gliela spiega e la fascina, lei cosa sceglierebbe? Guardi, prima di un convigno le rispondo così, poi magari dopo riguarderò la mia risposta. Algoritmo, dati da inserire e l'intelligenza artificiale che li processa. Facciamo inserire i dati a un bravo storico dell'arte e forse troveremo un buon compromesso. L'approccio con il mondo digitale e quello social è uno strumento dalle grandi potenzialità per i piccoli musei, che diversamente con fatica riuscirebbero ad imporsi ad un vasto pubblico. Se la notorietà degli uffizi di Firenze, piuttosto che le gallerie dell'Accademia di Venezia, li affranca dalla necessità di incrementare la presenza social, non è così per realtà che attraverso il web possono far conoscere un'arte solo all'apparenza minore, conservata in territori marginali come l'area penninica. Da qui l'investimento fatto da Me Too in questo settore in termini sia di risorse economiche che umane. Il progetto nasce nel 2020 grazie all'impulso e al contributo della Regione Umbria che dal 2020 ha suggerito di formare delle reti per ottenere dei finanziamenti relativi alla legge regionale sui musei e grazie a questa possibilità il Museo Civico Palazzo di Consoli si è fatto promotore di un progetto allargato di cui è capofila. Il progetto intende raccogliere i musei del territorio, farli dialogare, farci anche semplicemente conoscere perché in alcuni casi proprio non ci conoscevamo. E quindi è nata una relazione che è una relazione in primo luogo personale e professionale dalla relazione, dal dibattito sono nate delle idee che hanno portato alla realizzazione di alcuni prodotti che sono prodotti fruibili sia online ma molti di questi prodotti sono, diciamo, l'online è un mezzo per poi anche fruire di questi prodotti offline e quindi sono kit didattici, itinerari storico-artistici, naturalistici e anche semplicemente video promozionali del territorio che sono utilizzati nelle pagine Facebook e Instagram della rete perché questo progetto ha offerto l'opportunità ad alcuni musei, oltre ai musei di Gubbio e ai musei di Gualdo che avevano già una struttura organizzata dal punto di vista della comunicazione sociale e internet altri piccoli musei del territorio non avevano un sito, non avevano pagine quindi ha offerto la possibilità di avere una visibilità. Ecco, le chiedo quanto è importante oggi per gli operatori museali, per chi dirige i musei anche avere proprio conoscenze di comunicazione sociale, ormai tutti quanti abbiamo un telefonino forse ci stiamo anche troppo attaccati, però è diventato inevitabile conoscere questo mondo di comunicazione. Sì, mi viene da sorridere, io non ho Facebook, non ho Instagram, cioè sono una persona meno adatta forse a rispondere a questa domanda, però mi rendo conto dell'importanza di questi mezzi e quindi pur non volendo avere un ruolo attivo in questo tipo di interventi ho incaricato delle persone che lavorano al museo di occuparsi della comunicazione sociale ovviamente confrontandosi con me e avendo un colloquio sugli argomenti e sulle metodologie ma poi lasciando a loro la libertà di poter esercitare la propria professionalità che hanno maturato anche attraverso corsi di formazione che hanno fatto e con l'esperienza che oramai da quattro anni hanno. Io mi limito semplicemente ogni tanto tramite account non miei ma di altre persone a controllare, a guardare, i miei amici l'ho obbligati a diventare follower del museo e di me e quindi tramite loro guardo e mi aggiorno sulle attività.